Cominciamo da un tetto qui, un tetto come tanti altri e questa avventura, questo corso sul civic design o design civico, c'è ancora questo dubbio, non sappiamo ancora bene come metterla, però diciamo che con civic design ci capiamo un po' tutti. L'idea di questo primo video è introdurre una riflessione iniziale sull'idea, sul concetto stesso di civic design, cominciando dal fatto che in realtà sappiamo bene che non esiste realmente una definizione chiara del civic design, ma che proprio questa indefinizione in realtà è l'opportunità per tutti noi di poter costruire insieme una dimensione condivisa, professionale e non su quest'idea del civic design. Innanzitutto io partirei da due punti focali, diciamo che fino adesso un po' cercando qua e là si possono trovare su come definire il civic design. Da un lato c'è l'aspetto un po' più politico legato alla governanza, cioè come disegnare nel senso più anglosassone del termine, cioè come progettare tutto l'apparato di governo, di governanza, di organizzazione collettiva, di una comunità, di un territorio eccetera. Quindi si utilizza molto questo termine per indicare la riflessione, la progettazione su come strutturare questa capacità di organizzarsi, spesso anche molto legata ai nuovi modelli democratici o di democratizzazione legati poi all'uso delle nuove tecnologie. Quindi civic design in questo senso. Anche per questo chissà forse una delle situazioni in cui abbiamo sentito parlare più di civic design nell'ambito della civic tech, della tecnologia civica. Dall'altro lato invece c'è una visione del civico, che forse è quella che tutti quanti noi conosciamo meglio, diciamo dell'ambito quotidiano, della convivenza con le persone che diciamo vivono sullo stesso territorio, un atteggiamento civico eccetera eccetera. Però diciamo in un certo senso nel fondo molto spesso abbiamo utilizzato questa parola anche per riferirci a quelli che sono gli spazi collettivi, gli spazi pubblici, cioè quindi ciò che è civico nel fondo è ciò che ci appartiene a tutti, parlando in un modo molto generico. E partendo da questi due punti di vista, quindi uno più di governance, un altro più relativo ai territori, penso che potremmo cominciare ad avere un discorso molto più interessante, quindi unendo le due parti, la parte di governanza e la parte del territorio. Su questa parte del territorio credo che è importante soffermarsi un po', perché chiaramente sulla governanza, su come organizzarci, siamo tutti d'accordo che si può migliorare, c'è molto da dire eccetera eccetera, si può parlare anche di intelligenza collettiva, lo vedremo nelle successive sessioni. però sul territorio in realtà, che dal punto di vista di molti di noi professionisti che si dedicano giustamente alle tematiche della città, dei territori, dell'ambito rurale, urbano eccetera, in realtà sembra molto più ovvio, però da un punto di vista molto più quotidiano e colloquiale, in realtà in un certo senso abbiamo come società possibilmente abbiamo perso quella relazione che avevamo avuto nel passato con il territorio, che ci permetteva poi di organizzarci per avere un atteggiamento che oggi va molto di moda, quindi parlare di resilienza, parlare di sostenibilità eccetera. Che cosa voglio dire? Che nel fondo quello che è successo anche con le due rivoluzioni industriali che ci hanno preceduto, le varie migrazioni tra la campagna, la città, i nuovi modelli economici sempre più diciamo centrati su delle dinamiche di tipo globale, in realtà poco a poco ci hanno allontanato da quello che è la vita giornaliera dei nostri territori. E quindi quando parliamo, dal mio punto di vista, quando parliamo di civic design non possiamo assolutamente dimenticare questa relazione con il territorio, quindi questa dimensione locale, che però come vedremo non perde di vista la relazione con ciò che succede a livello globale ed è per questo che parleremo poi nelle prossime sessioni anche della dimensione glocal, quindi questa unione tra il globale e il locale. Insisto molto su questa cosa perché voglio anche evitare che questo discorso possa ricadere anche su una specie di riflessione localistica, di pensare che tutto si risolve in realtà a livello locale, io penso che nella situazione attuale questa relazione costante tra il locale e il globale è chiaramente all'ordine del giorno, è impossibile in realtà separarsi completamente da ciò che succede fuori dal nostro territorio. Però ecco, è importante avere almeno coscienza che esiste questo territorio. Quindi, ritornando un po' al discorso iniziale, governanza, territorio, delle due cose parleremo molto nelle prossime sessioni e aggiungerei qui un'altra che è molto importante che è in realtà la posizione come professionisti, che anche qui durante il corso vedremo, potrebbe essere un po' ambigua, però diciamo che cominciamo da un punto di vista di considerarci un po' dei cittadini professionisti, vedremo anche il concetto di prosumer, però diciamo cittadini professionisti, qual è la nostra relazione con questa necessità di governanza e questa necessità di territorio. Che cosa voglio dire? Per quanto riguarda la governanza, una delle riflessioni che possiamo fare sul civic design è tenere conto che ogni qual volta noi agiamo... vedi, c'è pure la campana, questa è... vediamo un attimo se è finito già a posto... e... ah boh, questo, cioè, stiamo qui su un tetto, è normale, quindi... e... beh, è normale, insomma, non penso che in tutte le città ci hanno la possibilità o la fortuna di avere anche, diciamo, un contesto un po' più... effettivamente un po' più popolare, locale, no? Qui stiamo, approfitto per commentarlo, stiamo registrando questo video nel quartiere Benimaclet di Valencia, quindi se venite a Valencia vi consiglio di visitare questo... questo quartiere. Continuiamo, quindi dicevamo, la parte della governanza è importante perché... e qui faccio una riflessione personale sulla differenza tra il social design e il civic design. Il social design che si comincia ad essere molto più conosciuto ed ha possibilmente una definizione un po' più chiara che civic design, si occupa chiaramente del... diciamo, delle trasformazioni nell'ambito sociale, quindi... in come organizzarsi effettivamente, però quello che mi stupisce è che molto spesso, in realtà, non si preoccupa degli effetti che avvengono dopo che... diciamo, il progetto e incluso la realizzazione del progetto portano a termine, cioè... quello che direi che nel civic design dovremmo sempre avere in considerazione è che una volta che noi progettiamo, interveniamo... dobbiamo essere capaci di creare una situazione in cui gli attori che hanno partecipato dell'azione in realtà sono capaci di portare avanti la loro governanza e quindi di dare continuità al progetto. e questo ci obbliga, chiaramente, a considerare qualsiasi tipo di azione come un processo che dura nel tempo. E vedremo che il punto critico... cioè, in realtà, sono due... non so qual è quello più complicato, però i punti critici, diciamo, sono due, che è l'inizio di un processo, come avviene, chi sono i promotori, come ci si relazioni, eccetera... e lì entreremo a parlare di pubblico privato e civico, giustamente, o cittadino, eccetera... con la componente anche accademica. E come finisce un processo di innovazione civica, un progetto di innovazione civica? possibilmente non finisce, effettivamente. Possibilmente dovremmo cercare sempre di pensare a qual è la connessione che può esistere tra ciò che stiamo facendo di nuovo e ciò che già esiste, in modo che, diciamo, il processo possa continuare poi nel tempo. Questo, diciamo, per quanto riguarda la governanza. Per quanto riguarda il territorio, introduciamo un'altra componente fondamentale, che è la nostra posizione dentro il territorio. Cioè, molto spesso, considerandoci dei tecnici, professionisti che lavorano per migliorare il territorio, ci ritroviamo, non è che abbiamo una tendenza, ci ritroviamo a lavorare sul territorio, quindi come agenti, attori, che mettono a servizio la propria conoscenza per migliorare il territorio. Però noi stessi, in realtà, non ne facciamo parte. Questo è un punto critico. E' un punto critico anche perché, diciamo, ha a che vedere con tutto quello che dicevo prima per quanto riguarda la governanza. Nel momento in cui noi ci inseriamo in un contesto territoriale e sicuramente portiamo una cosa positiva, che è la nostra conoscenza, però non siamo in grado di formare parte di questo stesso territorio, quindi di essere parte del territorio e non agire sul territorio, la situazione è un po' più complicata. e questa è una riflessione che poi ci porta, nell'ambito più professionale, a riflettere su che senso ha oggi, diciamo, definire una professione, che relazioni abbiamo noi come persone nell'ambito di un territorio e come ci possiamo relazionare con i territori, perché possibilmente ci ritroveremo a lavorare su vari territori. Chiaramente non è che lo risolviamo qui su due piedi questo tema, però già, diciamo, è un punto di partenza, una riflessione fondamentale che molto spesso, diciamo, negli ambiti di riflessione, sia accademici che professionali, non mi sembra che sia molto presente. Io penso che dobbiamo riflettere su questa cosa. Che poi, in realtà, come dicevo prima all'inizio, ha a che vedere con questa idea dei cittadini professionisti. Che significa? Significa che il corso e le riflessioni che facciamo qui sul civil design in realtà potrebbero essere anche una bella scusa per cominciare a riflettere proprio sul concetto stesso di professionista. Adesso siamo un po' agli inizi, questa è un'introduzione, però potrebbe essere interessante, cioè pensare bene che cosa significa oggi lavorare, come sta cambiando il mondo del lavoro, che significa essere cittadini e come noi che ci occupiamo del territorio in realtà siamo costantemente cambiando, diciamo, la nostra posizione da cittadino a professionista, no? Che c'è una parte complicata, però c'è, possibilmente, anche un'opportunità. Quindi, con queste, diciamo, prime riflessioni, io direi che già abbiamo un punto di partita per cominciare a discuterne. Io mi faccio l'invito a, diciamo, a rifletterne, a esprimere anche voi stessi che vedete questo video, la vostra opinione al riguardo. Ci sono molte cose sulle quali potremmo magari andare oltre nel dibattito, però, giustamente, se vogliamo veramente che questa sia una costruzione collettiva, diciamo che qui lanciamo questa pietra e spero che voi che guardate questo video potete poi continuare a riflettere e da quello che poi commenterete voi magari nascerà un altro video, un'altra riflessione, eccetera. Quindi questo è il primo video di benvenita, di riflessione un po' su questa idea del Civic Design. vi aspetto per la prossima sessione.